Attivazione dell'area di crisi in Molise, l'ultima speranza forse per il rilancio produttivo, economico, industriale per quanto possibile di questa terra? Noi vorremmo che la storia non si ripetesse, qui sono passati grandi aziende ma sono passati anche prenditori di risorse. A volte questa non è stata un'occasione per rilanciare il territorio ma è un'occasione stata per riempire le tasche di alcuni imprenditori. Noi vorremmo che questa storia non si ripetesse, staremo attenti rispetto a questo, lo stiamo facendo, abbiamo voluto dare impulso a questo territorio nel momento in cui nessuno più credeva in questo territorio, lo considerava una provincia, una periferia. Il sindacato ha voluto rilanciare, ha voluto il riconoscimento dell'area di crisi, si è mobilitato per quel riconoscimento e questo sta continuando a osservare, sta continuando a tenere sotto controllo questa situazione. Purtroppo le scelte non sono del sindacato ma noi staremo attenti, la nostra presenza rinforzata sul territorio isernino è proprio l'attenzione a quello che sarà lo sviluppo di questo territorio perché non permetteremo che questa volta qualcuno venga a prendere risorse e scappi via. Noi vogliamo che davvero in questo territorio si possa ricominciare, adesso ci sono delle risorse concrete, bisogna avere il coraggio di mettere in campo delle scelte che siano per la collettività e che non siano per fini politici, clientelari o di voto.